Olivia Croce qui con noi alla Società Umanitaria per il primo incontro di Libre e Caffè. Sala, Stratività, che cosa provi? Beh, non avevo ancora una presentazione con così tante persone e devo dire che il fatto che abbiano alcuni già letti che siano preparati a questo genere di incontri dà tantissima soddisfazione a chi ha scritto, agli autori, perché c'è veramente uno scambio ricco. Non è che hai davanti la solita platea che un po' ha paura anche di addormentarsi. Qui c'era molta partecipazione e questo è, sono stata bene, mi sono divertita molto. Grazie, noi ci vediamo il 27 di ottobre con un nuovo libro.